Il legame storico tra Gandhi e la città di Brindisi è stato ufficializzato con l'inaugurazione del busso bronzio donato dall'India in vista del vertice della G7 che si è svolto a giugno. Legame che risale al 14 dicembre del 1931, quando Gandhi, dopo aver partecipato alla seconda conferenza sulla questione dell'India a Londra, decise di modificare il suo percorso di ritorno facendo tappa a Brindisi. Intanto è un grande onore, un grande orgoglio ricevere questo dono dal governo indiano del busto del Mahatma Gandhi che peraltro è la copia di quello che è stato allocato lo scorso anno a Hiroshima. Quindi siamo in linea di massima collegati ad una immagine di pace universale che non può che fare piacere a tutta la città che come sapete è riconosciuta dall'UNESCO come porto di pace e di accoglienza. E' venuta l'ambasciatrice che già era venuta in occasione dei primi sopalluoghi, doveva essere inaugurata direttamente dal premier indiano ma per motivi di sicurezza durante il G7 questo non si è potuto fare. E lo facciamo oggi con qualche ritardo ma è comunque un fatto di estrema significanza per la città perché ancora una volta viene riconosciuto il ruolo di pace e di accoglienza che questa città storicamente ha avuto nel suo destino. Tra India e Italia ci sono delle buonissime relazioni e Gandhi viene rispettata come figura iconica dalla cittadinanza italiana e Gandhi diversi anni fa passò da Brindisi per imbarcarsi per l'India. Crediamo che oggi il messaggio di Gandhi della pace, della non violenza, del rispetto dei diritti umani sia un messaggio realmente attuale di cui c'è bisogno. Grazie. Grazie a tutti.